Ciao, sono Giovanni. Oggi piatto tipico della tradizione pugliese, andremo a fare dei gomiti con i cavoli. Quindi ci serviranno dei gomiti, il cavolo, del sale, della pancetta fumichata, dell'aglio, del pepe e del pecorino romano. Quindi vi andrò a spiegare la procedura di questo piatto tipico pugliese, macaruno e cime da col, quindi non che pasto e cavoli. Allora, andiamo subito a fare il nostro soffritto, quindi olio, aglio e pancetta. Allora, abbiamo preparato il nostro soffritto e abbiamo messo i cavoli a bollire. Metteremo 3-4 minuti prima di inserire la pasta dentro. Allora, dopo aver cotto la pasta insieme al cavolo, andiamo a mettere tutto in padella, quindi andiamo andiamo ad amalgamare il tutto, quindi la pasta, i cavoli, la pancetta e il nostro soffritto che avevamo precedentemente preparato. I nostri gomiti, il concavolo, piatto tipico pugliese. E ricordatevi che ho amore della cincinzola che chiaro c'è. Grazie a tutti.